Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Se vedete un buco qui accanto a me alla mia sinistra è perché stiamo aspettando finalmente il Kallax, stiamo facendo un po' di lavori qui nello studio e quindi stiamo spostando, non faccio una carrellata perché sono sommerso dai giochi da tavolo ovunque, tanto che non mi posso nemmeno muovere. Oggi vi presento Il Signore degli Anelli, gioco ufficiale wargame di miniature e di battaglie della Games Workshop e il materiale che ci è stato fornito dal nostro negozio sponsor, gioco in libreria Semola, di cui tanto poi vi lascio sempre. Primo link in descrizione e in sovraimpressione a fine video. Quello che vi andiamo oggi a mostrare non è il normale gioco di schermaglie o di battaglie campali su larga scala, ma le Battle Companies che vedete qui davanti, che è un nuovo manualetto, nuovo insomma è uscito già da qualche anno, è una nuova versione o variante del gioco per Il Signore degli Anelli e l'Hobbit con cui potrete fare delle vere e proprie piccole schermaglie, una specie di, apro parentesi ovviamente, doveroso citarlo, Mordheim, come altro gioco della GV, e potrete comprarvi direttamente una scatola, come qui in questo caso vedete i nani, e da quest'altra parte invece gli spettri, sempre del film del Signore degli Anelli, e potrete comporre la vostra banda per portarla avanti in più missioni. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Il Signore degli Anelli e l'Hobbit Battle Companies, gioco della Games Workshop, è un titolo che vi permetterà di prendere le vostre miniature direttamente, comprando anche una scatolina come questa, nel caso dei nani, che vedete qua giù davanti in armatura pesante, o quest'altra parte, gli spettri, vi ricordate dei tumuli, per comporre la vostra banda. E qui nel manuale, come ora poi vi farò vedere nel corso del video, ci sono tutte quante le regole per comporre la banda. Preciso subito, apri una piccola parentesi, in questo manuale non troverete nemmeno una regola di gioco. Le regole di gioco sono quelle normalissime del Signore degli Anelli, quindi vi dovete comprare il manuale, il codex del gioco di base, di battaglie campali del Signore degli Anelli, per avere tutto quanto in regolamento. Qua troverete soltanto le cose in più per questo gioco, ma non ci saranno setup e tiri vari, che ne so, tiro per colpire, tiro per ferire, tiro a distanza, la meccanica di come funziona tutta la battaglia, qui non c'è scritta per niente. Ci sono unicamente le regole per comporre le vostre warband, le vostre bande, ed è, praticamente, per farvela il più veloce possibile, è Mordaim. Vi è andata a comporre la banda. Chi è a seconda della banda scelta che sono armate della luce e dell'oscurità, buoni e cattivi, armate buone potrebbero essere i gondoriani, gli uomini di Rohan, oppure anche gli elfi di Galadriel o di Mirkwood, o anche del mezzelfo Herron di Rivendell. Mentre da quest'altra parte si potrebbe andare su Kiri Tungol, ad esempio, Angmar, le armate di Mordor, gli Urukai di Isengard, e moltissime altre cose, ovviamente anche le truppe, quelle degli Orchi, Orchetti e Goblin, viste nella città dei Goblin e in altri spezzoni dell'Hobbit, del film dell'Hobbit. Ed è molto interessante perché voi comprate una scatolina, fine. Qui per davvero comprate una scatolina soltanto ed è finita anche perché queste sono le scatole normali dello strategy game, come vedete qua su in cima. Quindi non esistono le vere e proprie scatole delle bande, ma comprate quelle normali. E magari in una banda degli spettri ne potrete usare 5 o 6, non di più. Quindi gli altri ovviamente sono truppe che potrete poi avere secondo il regolamento o come supporto o come nel caso logistico vi andasse a morire un personaggio o un eroe al fine della battaglia, potrete metterne uno nuovo con un nuovo equipaggiamento, però il numero deve sempre rimanere quello perché il numero della banda è calcolato così. Cioè una banda di spettri sono 5, non li potete far diventare 8, 9, 10, poi un esercito, no. I limiti sono quelli imposti da questo manuale, quindi nel caso una banda di spettri sono 5, una banda di nani sono 4, una banda di mirkwood 5 o 6, ad esempio i dunedain anche lì sono 4 e gli hobbit sono quelli un po' di più. Gli hobbit mi sembra che si arrivi a scherarne fino a 12 in campo, però insomma quello è il tetto delle truppe che potete avere in campo e ciascun personaggio, ciascuno mino, parte come semplicissimo guerriero e mano a mano che va a progredire, quindi facendo ferite o ammazzando eroi avversari o riuscendo a sopravvivere, magari anche in vitto senza alcuna ferita pesante al fine della battaglia, guadagnerà dei punti che lo faranno diventare eroe. Diventando eroe andrà a sbloccare dei talenti unici che lo renderanno fortissimo, tipo c'è un talento per gli arcieri, per l'eroe arciere che può tirare due frecce, cioè tira due volte, immaginatevi in un elfo di Lothlorien o di Mirkwood che già hanno una mira disumana, invece di tirare una freccia ne tira due nel suo turno ed è tanta roba e possono diventare anche tutti eroi andando avanti, però per ogni casualty, quindi per ogni omino che a fine della battaglia viene rimosso dal campo, nel caso facciamo conto che lo spettro ha tirato giù un nano, a quel punto lì bisognerà andare a tirare sulla tabella delle casualty e con 1-2 sarà morto, quindi proprio morto, persa le esperienze e tutto e l'andate a riprendere con la fama come vi dicevo prima, se avete guadagnato punti fama e avete rinforzi, o se no potrebbe diventare ferito, non succede niente di particolare, si riprende oppure non è successo e o salta la battaglia successiva, oppure invito tranquillamente non ferito e niente di fatto, la battaglia dopo era lì sul campo. Lo stesso anche per gli spettri, nel caso dissolto e tutte quante le altre armate. Ci sono alcune abilità che possono usare solo i buoni, alcune abilità comuni per tutti, alcune abilità che possono usare solo i cattivi, quindi ad esempio i veleni li possono usare soltanto i malvagi, gli orchi, gli urukai, i goblin, nessuno può usare il veleno sicuramente delle armate alleate della terra di mezzo. Ed il gioco è veramente veloce, immediato, vi ripeto, non comprate soltanto questo, perché qui trovate le regole, cioè non tanto le regole, le regole per comporre le bande, ma le regole di gioco non ci sono, non c'è una singola regola in questo manuale. Dovete comprare il manuale normale del gioco di strategia del Signore degli Anelli e questo come supplemento aggiuntivo. Per me, ragazzi, è un titolo che merita veramente molto, ovviamente per gli spettri abbiamo scelto una colorazione bianca, verde e eterea, mentre per i nani, classico color acciaio per l'armatura, un po' di nero addosso, magari un castano marrone per le barbe, ma sono pitture da battaglia, pescherare le truppe, non sono pitture da vetrina. Io, ancora una volta, ringrazio la Gioco Libreria Semola per tutti i prodotti forniti e vi ricordo che se lo volete ordinare, primo link in descrizione, in sovi impressioni, dalla Gioco Libreria Semola, nostro negozio sponsor ha il miglior prezzo sul mercato e se andate sul sito, c'è sicuro, però finite le copie oppure, rimosso dal catalogo, mandate una mail al supporto, a Corrado e scrivete arrivo dal canale di Coridan. Si potrebbero avere queste cose che lui ce l'abbia, ma sia finito o proprio non ce l'abbia in catalogo, farà il possibile per trovarvelo e soprattutto usate sempre il codice discount Coridan7, al momento dell'acquisto scrivete discount Coridan7, tutto maiuscolo, per avere uno sconto del 7%, per spese superiori ai 79 euro, corriere gratuito in tutta Europa, quindi anche fuori dall'Italia, isole comprese, in 48 ore ordinatevi e arriva a casa. E ragazzi, questo Battle Companies è veramente interessante perché vi consente di giocare al Signore degli Anelli in modalità Mordaim, pari, 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 e dentro il manuale c'è anche la modalità Schermaglie, normalissime, quindi battaglie, quindi ognuna a sé stante, o la modalità Campagna, per seguire una vera e propria storia con la vostra banda. Quindi è uno spettacolo assurdo e le miniature sono di altissima qualità, ovviamente è roba della Games Workshop. Mi sembra il minimo. Andate a vedere sul sito della Giocolibreria. Ciao ragazzi, alla prossima!